Nonostante le difficoltà legate al Covid e al caro energia, l'obiettivo della Sasi è potenziare il sistema idrico. Sono oltre 63 milioni i finanziamenti ottenuti dalla Sasi di Lanciano, anche dal PNRR, più altri 6,7 quale premio del Ministero per aver anticipato molti appalti e il bilancio del 2022 tracciato dal Presidente Gianfranco Basserebbe. Per il 2023 i primi 14 milioni e mezzo di euro serviranno per concludere la ricerca perditi a Basso e San Salvo e poi sulla costa con recupero fino a 200 litri al secondo. Ci saranno, aggiunge Basserebbe, nuovi depuratori agissi, casoli e sulla costa da San Vito a Ortona. Il CDA dell'ente integrato acquedottistico del Chietino con 82 comuni soci ha messo a gara altri progetti. Si tratta del potabilizzatore di Altino, del primo tratto della nuova adduttrice Fara San Martino Casoli, del secondo tratto Casoli Scerni e infine della sorgente dell'Avello. Nel 2022 abbiamo quasi ultimato nella sua interezza la problematica depurazione. Tra novembre e dicembre abbiamo appaltato lavori per 25 milioni direttamente su questa voce. Quindi questo consente di migliorare ancora il percorso delle acque reflue e fare in modo che l'acqua che immettiamo nel mare sia sempre più pulita per tranquillizzare tutte le persone che hanno deciso, speriamo che decideranno ancora, di trascorrere le proprie ferie nel nostro territorio. Un ulteriore progetto, aggiunge il Presidente Basserebbe, riguarda la ricerca perdite e le conseguenti riparazioni. Un risparmio maggiore si ottiene con la regolazione delle pressioni. Questo già è stato collaudato su Vasto in modo particolare, dove stiamo al 90%, rimane da fare un 10% con questi nuovi finanziamenti, cioè una misura di 14 milioni e 500 mila euro solo per questo aspetto. Riguarderanno tutti i comuni della costa e tutti i comuni più grossi da noi gestiti. Questo ci consentirà di recuperare dai 150 ai 200 litri al secondo. Tra gli altri obiettivi? Quello del potabilizzatore e questo ci consentirà la produzione di 500 litri al secondo, che nei momenti di difficoltà riusciamo ad immettere in tutte le linee più importanti che abbiamo.